Cricca bacia Isabel, e la sesta coppia nasce in questa edizione di Amici. Cricca e Isabel sono una nuova coppia, si tratta della sesta che si è formata nella casetta di questa edizione di Amici 22. Dopo il day time di giovedì 9 febbraio non c'è più dubbio, i filmati hanno mostrato i baci e le tenerezze che i due si sono scambiati nel corso delle ultime settimane. Un'amicizia speciale che si è intensificata da quando Cricca è ritornato nel programma, ripescato a seguito dei provvedimenti di alcuni allievi per il capo d'anno Gate. Cricca infatti era stato stato eliminato in una sfida dove era stato preferito Iore. Tornato a casa aveva parlato con la sua ragazza e si era lasciato. Gli allievi, che sono entrati nella scuola a settembre, nel corso dei mesi hanno seguito le lezioni di canto e ballo messe a disposizione dei professionisti. Per alcuni di loro è anche scoppiato l'amore. Sono infatti sei le coppie, alcune di queste già scoppiate, nate nel corso del programma e molte sono quelle scippate dai fan sui social, una su tutte quella tra Angelina e Wax. Il day time del 9 febbraio si è concentrato sull'amore nato tra Cricca e l'australiana Isabella. Carezze, baci e abbracci hanno suggellato la nascita di questa nuova coppia che va ad aggiungersi alle altre. Una delle coppie che resiste è quella formata dal cantante Niveo e la ballerina Rita che dopo essere stata eliminata dalla sua insegnante Celentano continua a sostenere il suo fidanzato da casa. Sono infatti numerosi i balletti realizzati sugli inediti di Niveo. Molto affiatata è anche la coppia formata da due cantanti, Piccolo G e Federica. I due si danno consigli e sostengono durante le esibizioni. Un'altra coppia che va avanti tra continui chiarimenti e pause di riflessione è quella tra due ballerini, Gianmarco e Megan. Nel corso della sfida di ballo, Maria De Filippi è anche intervenuta commentando questa relazione e sottolineando come Gianmarco sia fortunato ad avere vicino una come Megan. Tra le prime coppie a formarsi era stata quella tra Maddalena e Mattia, uno degli allievi preferiti dal pubblico da casa. Sempre primo nelle prove aggiuntive team e primo anche al televoto per quanto riguarda il ballo. La loro relazione però non è durata molto e i due si sono lasciati. Maddalena poi, come mostrato nel day team e dei giorni scorsi, si è avvicinata molto a Pacchi che però è fidanzato. È durata poco invece la relazione tra Wax e Claudia, la ballerina infatti è stata eliminata poco dopo ma tra i due non si era formato un legame solido. Wax mostra invece un interesse verso Angelina che, per ora, sembra ricambiare solo l'amicizia. La new entry, Benedetta, ha invece dichiarato di essere già fidanzata. E' beton după care il intind, si el devine tare in team, ca așa-i betonul, underground 97 am dat tonul, dar nu ca Vodafone-ul, si acum rap-ul e moda ori, nu așa-i. Si zici ca stom ford, la cum mă comport, in treaba asta nu-i loc de confort, ricord si Am ori tot, sunt un crucișător, lansand rachete aerosol, inca de cand el era broke si se uzat aerosol. De cand avea mall, de cand nu stiai ce un miscol, de cand ascultam gangsta rapper, baza pe pistol. Daca nu intelegi textul, suno pe Irina Nistor, va intalniți in tristor, la zero grade viscol. Nu tac nici stins mort, o sa mauzi prin sol, transpir hip-hop prin pori, bile mari zintor. Ca stii ca dupa trimiti o canumare, inspre cer si dau si Oscar-ul mare, astrologia treaba ca...